In Italia un omicidio su tre avviene in ambito familiare, oltre la metà matura nel rapporto di coppia e circa i tre quarti fra le mura di casa. Le casalinghe fra i 25 e i 54 anni sono la fascia più a rischio. Questo dato, probabilmente distante dalla percezione comune, apre lo studio Sono caduta dalle scale, un saggio sulla violenza di genere curato dalle psicologhe Caterina Arcidiacono e Immacolata di Napoli. Se ne è discusso questa mattina al Comune di Napoli, riflettendo sulla dimensione visibile e nascosta del fenomeno, sulle responsabilità individuali, sulla trasformazione dei costumi e delle leggi. Siamo molto preoccupati perché i dati sulla denuncia diminuiscono, cioè meno donne e non pensiamo che il fenomeno sia meno importante, pensiamo solo che sia più sommerso. Dobbiamo assolutamente fornire più servizi. Ci dispiace, siamo amareggiati che ancora il fondo, il fondo nazionale di contrasto alla violenza è un fondo arido. Siamo amareggiati perché ancora la Convenzione di Istanbul, benché firmata dalla Ministra Fornero, non rientra nell'agenda di questa fine legislatura. E se i dati riferiscono un recente inasprimento della violenza di genere, anche la discriminazione LGBT, ricorda l'assessora Tommasielli, trova analogo spazio nell'idea disturbata che esistano identità e gruppi sociali con diritti più deboli. Una menzione rabbiosa ha ricordato l'adolescente romano che si è ucciso nel soffocante clima di Scherno percepito intorno a sé e le responsabilità di quelle forze politiche che ancora oggi sono ostili a una legge sull'omofobia. Si può fare molto, un'amministrazione pubblica può fare molto, ma tutti possiamo fare molto innanzitutto aprendo gli occhi e smettendo di far finta di non vedere, ma non solo di non vedere nelle nostre case, ma di non vedere a livello istituzionale, cioè di non vedere quando facciamo i parroci, di non vedere quando facciamo i medici di famiglia, di non vedere quando facciamo gli psicologi e ahimè di non vedere quando facciamo i periti.